Giuseppe Conte, serve la settimana corta per il lavoro e il salario minimo. Terzo mandato. Faremo votare a base M5S il vincolo sul secondo mandato. Serve offrire ai lavoratori italiani una settimana più corta. È questa la nuova promessa lanciata dal leader M5S Giuseppe Conte, collegato con l'iniziativa Visione Comune, sul mondo del lavoro dei prossimi anni. Lo dobbiamo fare intelligentemente, non mettendo in difficoltà il mondo produttivo ma ribaltando la prospettiva, per incrementare la produttività, che è il grosso problema del sistema Italia, sottolinea ancora il presidente congelato in attesa del nuovo voto sulla piattaforma M5S dopo la sentenza del Tribunale di Napoli, è previsto per la prossima settimana, ha già anticipato Conte. La battaglia per il salario minimo è un punto nevralgico per il M5S, abbiamo 4,5 milioni di lavoratori compaghi da fame, aggiunge Conte confermando l'impegno del nuovo movimento sulle prossime battaglie dalla prossima legislatura. Tanto l'impegno sul lavoro quanto sul fronte dei diritti, Conte intende inserirsi a pieno nella coalizione di centro-sinestra come programma del nuovo M5S, la battaglia sul lavoro è essenziale, così come deve diventarlo quella per il congedo di paternità. Se noi confrontiamo i nostri dieci giorni, che sono una piccola conquista, con i sette mesi della Finlandia, con le settimane concesse in Spagna e Svezia il nostro risulta un passettino veramente modesto rispetto ad altre soluzioni. Giuseppe Conte cita anche il tanto vituperato di DL Zan come possibilità di ritornarci al più presto con la battaglia parlamentare, la legge contro l'omofobia per noi è stata una battaglia assolutamente importante, a cui abbiamo contribuito, e continueremo a mantenerla alta. Grazie per la visione!